ciao ragazzi benvenuti sul mio canale oggi mangiamo da McDonald's ho tanta fame ecco ragazzi è arrivato il mio troll wow che bello adesso lo apriamo mi dai una mano mamma così che io non ci riesco oh se bevo un po' di coca cola le mie patatine e il mio panino e il giocattolo che cos'è? ah questo è il Cooper il mio preferito lo apro dopo aver finito di mangiare dove lo mettiamo? lo mettiamo qui ho servito la scatola a mamma guardate questo è tigli di amol tutto glitterato che bello prima mangiamo le patatine eccoci qua cosa manca? la maionese vado a prenderla ho preso la maionese e adesso mangiamo guardate un po' questa patatina guardate un po' questa patatina è lunghissima è più lunga di me anzi sono io più lunga ma la mettiamo dentro la maionese e la mangiamo è buonissima proprio buonissima assangiamo il panino il mio panino non ci crederete ragazzi il mio panino bellissimo guarda qua sono quelle sono le camine è buonissima il mio panino il mio panino è buonissima Mungiamo anche un po' di patatine con maionese Guardate queste tre patatine Ho quasi finito di mangiare Questo è Cooper Cooper Questo è Cooper ragazzi Guardate qua che bello Ci vediamo con il prossimo video Ciao ciao